Era tutto oscuro e si sta dall'alberino da nottato Gigi Palasport, Gigi for Christmas, Gigi forever Gigi forever, sì Secondo me non c'è cosa più bella di incontrare il pubblico Perché i miei concerti non sono miei, sono nostri Ovviamente la cosa sempre più difficile per me è la scaletta Avendo 6-700 canzoni di repertorio Ne canto 50 io ogni sera Ma quella non me l'hai cantata Dei nuovi campioni della canzone partenopea C'è qualcosa che ti colpisce? Vedo tanta buona musica Mi auguro che non si facciano prendere troppo dalla mano, dalle macchine Ho sentito dire che col tempo tutto passa e se ne va Dallo stadio allo studio di registrazione C'è qualcosa che bolle in pentola Stiamo scrivendo perché noi siamo usciti con Fra che era la prima parte di un racconto, di un album Adesso stiamo preparando la seconda parte Speriamo di farcela per uscire in primavera Speriamo di farcela per uscire in primavera Buonasera Roma!